Ti svegli mai nel cuore della notte con la sensazione che un giorno faranno passare quella legge assurda e verranno a cercare te e i tuoi figli per portarvi via tutti? In effetti sì. Mi fa una pena immensa quella povera anima che va in quella scuola in cerca di guai. Che ti è successo? Non ti ricordi? Avreste dovuto uccidermi quando ne avevate l'occasione! Ma passeranno, papi? No! Benvenuto, professore. Non gli hai detto del suo passato. Chi era? Non me lo ricordo. La rabbia a volte ti aiuta a sopravvivere. La guerra è cominciata. Che cosa hai fatto, Eric? Le cose hai fatto, Grazie a tutti.